un respiro su due che facciamo lo dobbiamo al mare il mare infatti la linfa vitale del pianeta che produce circa il 50 per cento dell'ossigeno che respiriamo assorbe più o meno un terzo della co2 in eccesso presente in atmosfera ed è il nostro più grande alleato nella regolazione del clima purtroppo ad oggi il suo stato di salute è gravemente compromesso a causa di cambiamenti climatici pesca eccessiva e illegale e inquinamento la buona notizia tuttavia che siamo ancora in tempo per cambiare rotta e proprio in quest'ottica l'associazione world rise on loose ha lanciato la campagna 30 per 30 italia che mira a proteggere il 30 per cento dei mari entro il 2030 in lilla coi target internazionali di protezione questo obiettivo appunto di proteggere almeno il 30 per cento dei mari entro 2030 è un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario da perseguire naturalmente per raggiungerlo abbiamo articolato la campagna in tutta una serie di obiettivi intermedia annuali che raggiungiamo assieme al lavoro delle associazioni quali associazioni la campagna 30 per 30 italia ad oggi vanta il supporto di oltre 40 associazioni e movimenti di tutela ambientale presenti su tutto il territorio nazionale che sono il vero e proprio cuore pulsante di questa campagna perché attraverso il lavoro di questa associazione di questi movimenti abbiamo la possibilità di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva sui vari territori oltre all'associazione di tutela ambientale i movimenti presenti su tutto il territorio abbiamo anche numerose realtà del settore privato che hanno scelto di sostenere questa campagna che sono appunto affini alla nostra mission nonché numerose realtà media che ci accompagnano durante questo percorso è possibile per chiunque partecipare alla campagna se volete prendere parte a questa iniziativa è sufficiente andare sul sito www.30 per 30 punto it alla sezione partecipa nell'arco di questa campagna e su tutto il territorio nazionale sviluppiamo costantemente progetti e iniziative alle quali partecipare in prima persona quindi se avete piacere a darci un sostegno e aiutarci a proteggere il 30% dei nostri primari entro il 2030 potete farlo sul nostro sito oppure seguendoci sui social 30 per 30 italia grazie a tutti Grazie a tutti.